Musica Bentornato Goodler, qui è Carlo che ti parla e da oggi iniziamo a descrivere i componenti interni del computer Diciamo subito che ti troverai di fronte due sigle in inglese hardware e software Vediamo cosa significano in dettaglio L'hardware è tutta la parte meccanica del computer elettronica e meccanica Come scritto, il computer è l'insieme di più componenti elettronici e meccanici In pratica, la struttura visiva, meccanica che tu puoi fisicamente toccare è considerata hardware Per poter essere utilizzata questa parte elettronica e meccanica necessita del software Il software rappresenta tutta quella serie di programmi quindi istruzioni che permettono alla parte elettronica e meccanica di poter funzionare e fornire gli effetti determinati dalle nostre impostazioni quindi dai nostri comandi Di norma il software è configurato con il sistema operativo oppure i programmi che utilizzerai di volta in volta per le tue necessità La caratteristica che accomuna tutti quanti i computer sia essi definiti come pc, desktop oppure netbook, notebook o qualsiasi altro dispositivo portatile è costituita dal contenitore il case, il cabinet ossia quella struttura normalmente di metallo o plastica al cui interno sono ubicati tutti i componenti elettronici e meccanici del computer stesso poi c'è il monitor ossia il visualizzatore, il display la parte che permette illuminandosi di vedere cosa sta eseguendo il computer poi abbiamo la tastiera che è l'interfaccia tra noi e il mondo computer ossia quella parte che reale, meccanica o virtuale quindi tramite touchscreen permette di inserire dei dati o impostare dei comandi nello stesso poi abbiamo un altro componente che ci interfaccia con il mondo computer ossia il puntatore, il mouse o nel caso dei touchscreen il nostro dito sostanzialmente tramite questo puntatore, questi mouse sarà possibile rapidamente effettuare delle operazioni c'è un'interfaccia chiamata interfaccia telefonica modem o router che permetterà poi allo stesso di dialogare col mondo esterno in particolar modo di collegarti alla rete mondiale il contenitore come dicevamo è quella struttura di metallo che contiene tutta la circuiteria elettronica e meccanica collegata tramite dei cavi oggigiorno i progettisti hanno fatto della loro creatività anche un mercato abbastanza ampio rendendo i case molto stravaganti futuristici esteticamente belli quindi hanno dato un colpo d'occhio estetico anche a quella parte del computer che tecnicamente è meno operativa se vogliamo il case normalmente è posizionato in maniera verticale di norma nella parte inferiore dei mobili porta computer quindi accanto ai nostri piedi alternativamente se costruito per questi scopi può essere anche posizionato in maniera orizzontale o a fianco o sotto il monitor ultimamente invece stanno nascendo anche dei cabinet e dei case che possono essere una via di mezzo tra i due ossia posizionati in maniera verticale ma dietro il monitor bloccati in maniera abbastanza sicura proprio per ridurre lo spazio di invasione della nostra schivania all'esterno del cabinet poi stanno comparendo sempre più interfacce potrai vedere una serie di porte spinotti che ti permette di rendere più piacevole l'accesso al computer puoi trovare quindi porte usb a cui sarà possibile collegare varie periferiche esterne come stampanti dischi rigidi chiavette usb per memorizzare i tuoi dati oppure chiavette internet per accesso alla rete o ancora fotocamere cellulari altri dispositivi mobili o infine puoi trovare anche degli spinotti a cui è possibile collegare altoparlanti amplificati oppure cuffie e microfoni quelli di fascia un pochino più alta possono presentare anche molti lettori di schede varie come la possibilità di collegare direttamente delle SD presenti in alcuni cellulari o nelle fotocamere come dicevamo tutto questo semplicemente per migliorare l'approccio al computer all'uso del computer prima era molto difficile interagire con lo stesso in quanto tutte le porte erano posizionate nel reto del computer per cui ogni minimo nuovo collegamento prevedeva di spostare il case in avanti con le difficoltà del caso e con la possibilità magari che si possa creare danni oppure scollegare qualche cavetto non dimentichiamo poi ovviamente nella parte frontale la presenza del pulsante interruttore per accendere e spegnere lo stesso o ancora il pulsante di reset e i led di stato dello stesso vediamo in dettaglio cosa dire a riguardo questi led di norma è presente un led di colore verde che indica lo stato di acceso del computer mentre c'è un altro led di colore rosso che lampeggia o rimane acceso non appena l'hard disk inizia a lavorare o comunque durante il lavoro dello stesso all'interno del contenitore del case abbiamo detto ci sono una serie di componenti partiamo subito descrivendo quello che fa vivere il computer ossia l'alimentatore l'alimentatore è costituito come un piccolo parallelepipido di metallo dotato di ventola per raffreddamento e una presa di collegamento per collegare un cavo al muro alla rete elettrica questo componente è in grado di fornire alimentazione quindi corrente a tutti i componenti del pc tra l'altro anche ad altri componenti esterni ad esempio potrai trovare sull'alimentatore stesso oltre alla presa da collegare al muro anche un'altra presa di alimentazione per collegare in cascata un monitor quindi con un unico alimentatore sarà possibile alimentare il computer e il monitor stesso nel caso tu possa scegliere l'alimentatore quindi nel caso in cui tu stia creando la tua configurazione è sempre meglio scegliere un computer che abbia l'alimentatore con il pulsante di accensione al suo interno questo perché se non colleghi tutti i componenti del computer che è il monitor stampante e quant'altro tramite una ciabatta che tra l'altro sarebbe meglio anche acquistare con un fusibile di protezione integrata dicevo se colleghi se non colleghi tutti questi componenti con una ciabatta di fatto anche quando il computer è spento una parte della circuiteria interna dello stesso rimane accesa quindi per un discorso legato esclusivamente a consumi e a sicurezza a mio modo di vedere è totalmente inaccettabile quindi cura molto l'acquisto di un alimentatore con interruttore di accensione bene tecnicamente cosa fa l'alimentatore semplicemente trasforma adatta la tensione che direte 220 volt a 60 Hz a tensione in corrente continua nel dettaglio 5-12 volt per tutti i componenti interni allo stesso quindi ogni componente che nel corso delle lezioni conoscerai sarà alimentato tramite queste due tensioni ogni tipologia di tensione presenta uno spinotto dedicato soprattutto ogni periferica da alimentare avrà uno spinotto collegato quindi per rendere ancora più semplice il collegamento all'alimentatore della singola periferica interna al computer troverai infatti moltissime tipologie di spinotti ci sono ad esempio spinotti per alimentare vecchie periferiche con collegamenti chiamate ID che sono caratteristiche dei dischi rigidi lettori e masterizzatori CD o DVT abbastanza vecchi oppure quelli più recenti potrai trovare degli spinotti etichettati con la sigla SATA come quelli qui in figura che permetteranno di alimentare gli equivalenti dischi rigidi lettori masterizzatori CD e DVD abbastanza recenti e ne troverai molti altri nel proseguo di queste lezioni troppo sì che mi dirai non ti preoccupare perché nel corso della guida tutte queste sigle verranno digerite bellissimo perché ripetute moltissime volte volutamente non citerò nell'arco di questo percorso molti componenti ormai divenuti vetusti vecchi come i floppy disk che troverai tra l'altro solo ed esclusivamente nei notebook o nei pc molto datati per quel che riguarda i collegamenti non è molto difficile anche se sei un neofita in quanto presentano una forma specifica dedicata alla periferica quindi non dovrai fare altro che prendere uno dopo l'altro i spinotti che fornisce l'alimentatore e andare a individuare all'interno del case ma questo lo vedremo comunque con il passare del tempo quindi dicevo andare a individuare la specifica periferica e inserire senza forzare lo spinotto dedicato per fornire alimentazione oppure per collegare lo stesso alla schiena mate per il flusso dei segnali nella prossima lezione descriveremo i lettori interni al computer in termini di cd e dvt a questo punto non mi resta che di nuovo ringraziarti per l'attenzione un saluto ciao a presto da Carlo ciao a presto ciao a presto Grazie a tutti.